È stata una serata che ha voluto celebrare i valori più autentici dello sport. Lo scenario è stato quello dell'Anfiteatro Romano. Prima edizione del premio Aquila d'Oro, organizzato dalla ginnastica Petrarca in collaborazione con il Comune di Arezzo. Il riconoscimento ha voluto premiare gli sportivi locali che rappresentano un virtuoso esempio di determinazione, resilienza ed etica. L'Aquila d'Oro per il mondo sportivo è stata destinata ai testimonial nelle categorie impegno e determinazione, Resilienza, Etica e Fair Play e Under 18, che sono stati scelti direttamente dai cittadini attraverso una serie di votazioni su Facebook. A ogni vincitore è andata la scultura dell'Aquila d'Oro realizzata in bronzo dal maestro Alessandro Marrone. Il premio impegno e determinazione è spettato a Nicolò Pagliardini, assistente della sezione AIA di Arezzo. Il premio Etica e Fair Play è stato conferito a Filippo Ballotti e Tamara Nofri come promotori della maratona sociale Hashtag Dona un Respiro che ha attivato una mobilitazione di camminatori, runner e podisti per acquistare saturimetri per le RSA. Leonardo Gambacorta del club Arezzo Volley ha vinto il premio Resilienza per avere superato una complessa malattia riuscendo a tornare in campo. L'Aquila d'Oro è stata consegnata a Francesco Stopponi della Chimera Lotta, che a maggio ha vissuto la gioia di vincere il titolo italiano nella categoria cadetti. La serata è stata arricchita dalle premiazioni di Piero Iacomoni, Danilo Tacconi e Giorgio Cervai come testimonial della società civile, mentre alla memoria dell'allenatrice Manola Rosi è stato conferito il primo All of Fame Petrarca.